Diciamo che sicuramente è una giornata importante, noi stiamo vivendo un periodo di cambiamenti, sono cambiate tante cose nella nostra società e giustamente anche il GAR cambia e si allarga. Da un certo punto di vista è molto importante aver istituzionalizzato la partecipazione di tutti gli RCCS al GAR perché nei prossimi anni la medicina e la rete degli ospedali faranno un lavoro molto importante sui dati, verrà prodotta una quantità di dati senza precedenti e quindi occorre che tutti gli attori si attrezzino in maniera opportuna per essere in grado di trasferire i dati, immagazzinarli e analizzarli. E quindi l'ingresso della rete gli RCCS nel GAR fitta perfettamente questa esigenza e guarda al futuro. Lo stesso discorso vale per la durata del GAR che fino ad oggi era sempre una durata che aveva un orizzonte temporale di qualche anno. Toglierla è fondamentale perché stiamo entrando in una nuova fase, adesso stiamo vivendo la fase del PNRR, stiamo vedendo la fase di progetti a lungo termine, di grandi investimenti che vengono fatti nel nostro paese sul digitale, in particolare il mondo della ricerca a cui il GAR fornisce la rete è quello che, se volete, parte prima di tutto il resto, di tutto il resto del paese e quindi avere una garanzia che il consortio possa fornire questi servizi che sono essenziali al mondo della ricerca per i prossimi anni è fondamentale. Ricordo che adesso stiamo cominciando tutte le grandi iniziative finanziate con il Recovery Plan, quindi da una parte il Centro Nazionale di Supercalcolo Big Data e Quantum Computing, dall'altra il progetto infrastrutturale Terabit. Con questo vogliamo creare una nuova infrastruttura nazionale di supercalcolo che chiaramente ha come diversi pilastri, da una parte c'è il Supercomputing Leonardo HPC per il calcolo parallelo, dall'altra c'è tutta l'infrastruttura di calcolo INFN, High Throughput Computing, se volete Big Data, e la terzo pillar è la rete perché tutte queste infrastrutture devono essere connesse ad altissima velocità e quindi avere una rete che tra due o tre anni vada a multipli del Terabit per secondo porrà l'Italia alla frontiera in questo campo, sarà un riferimento a livello europeo, a livello mondiale in questo campo e il GAR avrà un ruolo fondamentale in tutto questo. E con una rete così veloce potremo creare, se volete, un Data Lake nazionale in cui tutti gli attori possono accedere alle risorse di calcolo, attori che vengono dall'università, degli enti di ricerca, ma anche attori privati per cominciare a creare questo ponte tra ricerca pubblica e ricerca privata e quindi avere un Data Lake con accesso cloud, risorse virtuali, farà fare un salto di qualità alla ricerca e anche al sistema produttivo italiano per i prossimi anni. Quindi il GAR è attrezzato per queste sfide e giocherà un ruolo fondamentale. La scorsa settimana è stata una settimana importante. Il 24 novembre è stata inaugurata la presenza del Presidente della Repubblica, alla presenza della signora Ministro Bernini, il computer Leonardo, che è una delle tre macchine pre-exascale finanziate dall'Europa. In particolare nel giro di pochi mesi Leonardo è stato acceso al Tecnopolo di Bologna, quindi una nuova collocazione in un posto che diventerà il più grande centro di calcolo europeo e è già il numero 4 al mondo, nella top 500 risulta il numero 4 come potenza di calcolo, dopo neanche un mese dall'accensione, quindi diventa già un punto di riferimento. Al Tecnopolo, nell'anno prossimo, si verrà trasferito anche il TR1 dell'INFN, quindi le nuove macchine potenziate dell'INFN saranno proprio di fianco a Leonardo, interconnesse ad altissima velocità con Leonardo. Su questo è stato costruito, su questo nocciolo duro, è stato costruito anche il progetto del centro nazionale di HPC, Big Data e Quantum Computing, finanziato con i fondi del Recovery Plan. Sono 320 milioni di euro che dobbiamo spendere nei prossimi tre anni. L'attività del centro è cominciata l'1 settembre, il modello è il modello Hub & Spock, dove l'Hub ha le funzioni di coordinamento e sta al Tecnopolo di Bologna, dove appunto siedono Leonardo e il data center dell'INFN. e con questo grande investimento creeremo un data lake nazionale per fornire risorse di calcolo sia al mondo della ricerca che al mondo industriale. Ci sono delle sfide, perché da una parte costruiremo l'infrastruttura, dall'altra cercheremo di costruire, mettere insieme le competenze che ci sono a livello nazionale per scrivere le applicazioni software con cui sfruttare queste imposture di calcolo. E quindi lavoreremo su dieci aree tematiche diverse. Due sono tecnologiche. Uno è lo sviluppo di nuovi microprocessori ottimizzati per il supercalcolo e per le esigenze che avranno gli utenti. L'altro è investire su una tecnologia emergente, che speriamo si affermi nei prossimi anni, che è quella del quantum computing. e quindi essere attrezzati se tra 4-5 anni la prossima macchina di supercalcolo sarà macchina ibrida, sia con processori tradizionali che con processori quantistici. E le altre otto aree tematiche invece sono aree tematiche dove c'è un vero e proprio sviluppo delle applicazioni del software per sfruttare il supercalcolo e quindi si va dalla ricerca fondamentale all'astrofisica, al clima, alla terra, ai disastri naturali, l'ingegneria, ai nuovi materiali, la medicina, le smart cities. E quindi di nuovo è un'iniziativa unica perché riusciamo a mettere insieme a fattore comune tutte le eccellenze che abbiamo e le competenze che abbiamo a livello nazionale. E, altra cosa fondamentale, le mettiamo a disposizione il sistema produttivo. Quindi in questo centro nazionale per la prima volta abbiamo insieme partner privati e partner pubblici. Partner privati sono 14 grandi aziende che hanno già competenze in questo campo che vogliono partecipare a questa iniziativa perché capiscono l'importanza. E quindi mettere in contatto e creare un ponte tra il sistema privato e il sistema pubblico in modo tale che anche il sistema privato, in primis le grandi aziende, ma a seguire anche le piccole e medie imprese possano usufruire delle risorse di calcolo perché nei prossimi anni il nostro mondo sarà invaso dai dati e chi sarà in grado di estrarre valore dai dati sarà quello che si affermerà nel futuro, avrà un vantaggio produttivo per il futuro e quindi sarà un vantaggio per la nostra società.